Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti la vostra homeless Allora io sono qui in un parcheggio nascosto, nascosto per una parola grossa diciamo c'è della musica fuori, insomma, più che musica dovrebbe dare noia al video, non è proprio musica Non c'è la mascherina perché non c'è nessuno ma sono dall'altra parte, non mi preoccupate, la mascherina è tutto, non mi preoccupate Volevo fare una domanda perché non riesco a trovare dei video L'ONU, le Nazioni, io siamo l'Organizzazione delle Nazioni Unite Cosa sta facendo per questo coronavirus? C'è qualcuno che può linkare dei video seri però, seri Che possa avere delle informazioni perché non ho trovato niente al giro Non ne sento neanche parlare dell'ONU, delle organizzazioni delle Nazioni Unite Sapete cos'è l'ONU, no? Giusto? Perfetto Linkatemi i video, non fate polemica per cortesimo, non è una questione polemica Che non riesco a trovare dei video Linkatemi i video, ditemi delle informazioni veritiere Di quello che sta facendo per questo coronavirus che sapete quanti Ok? Buona giornata Grazie a tutti